Ciao a tutti ragazzi sono Andrew Rozza e bentornati sul canale oggi vi porto un nuovo video pack opening delle figurine calciatori panini se vi siete persi gli ultimi video ve li lascio la playlist per cui ve li potete godere tutti ovviamente se li avete seguiti sapete che mi mancano poco più di 100 figu e quindi è il momento di dare una bella scossa prendo 20 pacchetti e oggi ce li apriamo tutti ovviamente stateci dentro fino in fondo anche per avere i codici ma prima ovviamente partiamo con la sigla e poi ci vediamo con il video vero e proprio eccoci qua ragazzi allora qua vedete ci sono 5 gli ultimi 5 dell'otto rosso e qua c'è una bella mandria di pacchettini sono 15 blu quindi guardate qua quanta roba c'è da aprire ma prima ragazzi queste sono delle figu doppie che mi ha dato il buon Jacopo e lo ringrazio ovviamente per questi scambi vi ricordo ragazzi che se volete scambiare le figu c'è il gruppo telegram o non volete iscrivervi al gruppo telegram comunque entrate mi iscrivete privatamente e in qualche modo ci organizziamo quindi questo sicuramente mi aiuta per portare a casa qualcosina in più per completare l'album che ovviamente poi vi mostro completo alla fine e poi chiaramente quando ci saranno tutti gli aggiornamenti adesso finché ci sono andiamo ad aprirne in alternata ovviamente ragazzi ci saranno dei codici che vi lascio alcuni codici invece ovviamente che mi tengo partiamo bene quindi il primo ve lo regalo ampiamente colli vediamo al solito la ricerca dei canonici Zlatan e Vlaovic vediamo se oggi siamo fortunati Ines Perez, Defrello, ormai qua ragazzi ne arrivano anche doppie Wallace e il codice per voi quindi partiamo comunque non male apriamo un pacchettino blu e troviamo subito questo qua il codice questo me lo tengo invece vediamo che c'è Muriel dell'Atalanta qua troviamo Tominello e Vignato che credo di avere 6-6-5-39 Pulsetto qua ci sono gli stemmi di Teramo, Entella Vispesero e Vitervese che mi mancavano e Lorenzo Venuti della Fiorentina quindi maglia Fiorentina ma non Vlaovic vediamo un pochettino apriamo magari un'altra bustina rossa poi andiamo a vedere un pochettino busta rossa ragazzi facciamo così se trovo Ibra o Vlaovic nel pacchetto vi regalo tutti i codici quindi questa è una promessa c'è Bremer del Toro troviamo importante quello Carnesecchie e Pizzarri che mi mancavano dei giocatori dell'Italia poi c'è la Mantia c'è la Divisa dell'Empoli e c'è il Ghiallo Belotti che mi mancava quindi non male stiamo trovando giocatori però non troviamo quelli importanti che volevo secondo me saranno gli ultimi che troverò ci sono tre dell'Alessandria ovviamente in Serie B stiamo finendo anche molte squadre a parte il Parma qua c'è probabilmente questa qua mi mancava l'A4 credo di sì dovrebbe essere oddio ragazzi credo che sia l'Empoli ma non vorrei dire una stupidata magari fatemelo sapere nei commenti Omar Colley della Samp altri stemmi importanti con Avellino Bari Campo Basso e Catania e il codice mi mancava anche questo quindi importante proviamo un altro blu perché tanto le blu sono di più quindi via così nuova apertura Frosinone poi c'è Trimboli della San Perucchi c'è Spalletti che mi mancava importante del Napoli anche Marco Arnautovic del Bologna che mi mancava ragazzi quindi benissimo Stemma Perugia e il codice per voi ma sì dai andiamo ancora di blu e troviamo questo qua stavolta il codice me lo tengo la prima figu che vado a trovare è Super Padre Pioli poi c'è Ciccio Caputo Nicola Maximovic Brandon Soppi dell'Udinese che mi manca e Cristiano Biraghi della Fiorentina che mi mancava quindi non male stiamo trovando tanti calciatori che mancano quindi bene però male perché al solito di Serie A ancora comunque non ho terminato nessuna squadra il Milan quella che mi manca di più cioè che mi manca meno giocatori perché anche l'Orebi c'è Zlatan intanto troviamo Juric che mi mancava del Toro poi subito Portieri e difensore del Pordenone bene Simone Verdi che ce l'ho già Rami del Napoli poi Luca Fiordilino Ruchi del Venezia il codice per voi qua ragazzi siamo ancora on fire questa è la penultima rossa vediamo un pochettino che cosa troviamo il codice questo me lo tengo e andiamo avanti troviamo finalmente dei giocatori quindi Faraoni e Martinet di top valutazione che è importante perché questi ne trovo veramente pochi questo ovviamente sarà la Lazio poi c'è la Coppa Italia Sramberg della Salernitana e Samir dell'Udinese non male anche perché finalmente trovo queste figurine che sono veramente difficili da trovare e quindi bene anche così apriamo bustina blu dove troviamo ancora quello che mi mancava ragazzi completo la nazionale con una jampong e bastoni quindi top quindi perfetto poi abbiamo giocatori della reggina poi c'è Mele dell'Atalanta Perez Ruchi poi troviamo Nico Gonzalez il codice ragazzi veramente sembra una cosa incredibile non si trovano i Bravlawich ma per carità poi magari adesso spuntano fuori però mi sembra incredibile ho preso 20 ne ho presi 20 per averli adesso ne abbiamo aperti 3 2 5 e 3 2 5 10 quindi siamo a metà strada siamo con Svanberg poi finalmente troviamo ancora importante pellegrini e ribelli della top valutazioni finalmente dei giocatori del Parma che anche loro non ne trovavo mai mezzo poi c'è Marco Silvestri e lo stemma del toro quindi comunque tante figu sicuramente tante doppie perché ragazzi quando apri questi pacchetti poi dopo chiaro che arrivano le doppie però l'importante è trovarli adesso andiamo ancora con pacchettino blu e siamo nella seconda metà dello spacchettamento questo mi mancava perché è dell'importanza della 15 quindi top della Sampdoria Schutten del Bologna che sicuramente ho già questo pure mi mancava degli avatar la 16 quindi non male altro stemma e poi Daniel Bessa della Sverona quindi ragazzi anche gli avatar probabilmente sono che lo completati quindi non male assolutamente troviamo altri top player con Chessy e Lorenzo Insigne oggi è bene su queste figurine poi abbiamo tre del cosienza c'è Davide Frattesi appunto del Sassuolo Frosigulam del Napoli Dadovic dell'Ella Sverona il codice per voi ragazzi quindi top siamo tra delle figurine importanti quindi sono abbastanza soddisfatto questa ce la lasciamo dai per penultima andiamo di blu così poi vediamo se siamo fortunati questo qua il codice me lo tengo ragazzi vi ricordo che se trovo Ibra e Ovlawic da qua in avanti vi do tutti i codici che escono Miguel Veloso troviamo Delufeo e Caldara top valutazioni quindi ottimo c'è Leonardo Capezzi della Sardinitana Tomasino Pobega che spero che hanno prossimo resta al Milan e lo stemma dell'Atalanta che direi che avevo già ampiamente un bel mazzettino vi ricordo iscrivetevi al canale telegram se volete scambiare come le figure e andiamo avanti questo codice lo tengo partiamo con Samp team Sampdoria poi c'è Ghieri Medel del Bologna Aramu della Venezia stemma Udinese e stemma della Neorossi Vicenza che avevo voglia doppio per cui andiamo forte ancora tanti pacchetti vediamo vediamo vogliono spuntare fuori questi due fenomeni c'è Osimène doppio tra ore poi c'è Igor Tudor Piotr Zilinski e Daniel Bessa codice per voi ragazzi ce ne sono veramente tanti giocatori ne mancano cinque pacchetti ragazzi lo sogno lo liberamo sia Vlaovic che Ibra finirà che dovrò prenderli in qualche modo poi c'è Spinazzola della Roma c'è Amrabat della Fiorentina c'è un altro avatar questo è la cinque questo è della Fiorentina Biraghi Molinaro e il codice ragazzi qua siamo siamo veramente in situazioni incredibili mancano gli ultimi quattro pacchetti non è possibile però non trovare Ibra 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 vediamo un po' il codice questo me lo tengo poi dopo chiaramente vedremo se siamo fortunati il Sharawi Marco Silvestri dell'Udinese Torsby super doppio e Cedric Gondo che mi mancava ex giocatore appunto del reality sul calcio di Calciatori Giovanni Speranze è stato anche trasferito Cedric Gollo terz'ultimo pacchetto ragazzi José Murigno Manai Stemma del Cosienza Danilo D'Ambrosio Maglia Bologna e codice ragazzi siamo agli ultimi due ora penultimo pacchetto il codice ve lo tengo vi do l'ultimo così guardate tutto il video vediamo un pochettino Colantuono Trimboli Tiago Motta Svodoba andiamo piano magari e Michel Dix niente ragazzi devo trovare un pochettino un sistema qua adesso come passare per capire dai proviamo sull'ultimo chiaramente ragazzi ultimo pacchetto 20 pacchetti aperti non si trova Coulibaly qua ragazzi passiamo piano piano Torino e Aina non so se riuscirò bene tre giocatori del Parma con Vasquez Tutino e Miala poi c'è Torre del Genoa c'è Larsen dell'Udinese e ragazzi il codice niente Ibra e Vlaovic per cui assurdo però tante figurine che mi servivano quindi comunque al di là di tutto sono abbastanza soddisfatto ma la domanda è questa riuscirò mai a trovare Ibra e Vlaovic e qua la risposta sarà molto difficile ci proveremo ancora anche perché noi siamo in diritto d'arrivo vi ricordo il canale telegram per fare scambi con me soprattutto vabbè se siete a Milano è più semplice però anche se siete fuori vediamo un pochettino di inviare pacchi eccetera e niente ragazzi per il video di oggi è tutto noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao